Una tragedia della strada, in pieno centro abitato, questa mattina a Qualiano, a perdere la vita è stato Pietro Esposito, 77enne residente a Qualiano. L'uomo questa mattina, poco prima delle 9, aveva parcheggiato la sua auto su via Campana, nei pressi dell'incrocio con via Martiri d'Ungheria, per recarsi in un CAF. Mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, è stato però travolto da un'auto. Sul posto sono subito intervenuti sanitari del 118 di Marano, ma l'uomo sarebbe morto sul colpo dopo il violento impatto ed un volo di circa 10 metri. Il veicolo killer, una Hyundai Atos, si è fermato pochi metri dopo e la conducente, residente a Villaricca, avrebbe provato ad allertare i soccorsi, quando ormai però non c'era già più nulla da fare. Molto probabilmente viaggiava a velocità elevata, in pieno centro cittadino e dove vige un cartello che fissa il limite a 30 km orari, oltre ad essersi distratta a tal punto da non vedere il pedone sulle strisce. L'automobilista è stata fermata da carabinieri e polizia municipale. Vigili e militari dell'arma hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica, ascoltato i testimoni che hanno assistito alla terribile scena ed acquisito le immagini delle telecamere. L'automobilista è stata condotta in ospedale per gli esami tossicologici di rito ed è accusata di omicidio stradale.